La dodicesima edizione della Spagettopola 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 Un applauso Eleonora, vieni avanti! La numero 11 La Spagettopola è una realtà locale, è diventata una realtà importante, un punto di aggregazione nel nostro mese fine luglio-agosto per il comune di Fiumicino, no? Questa è una festa che noi organizziamo, la nostra associazione, in un anno. Quest'anno siamo partiti e l'abbiamo fatta in due mesi. La nostra numero 29, Maronia Sinocelli, c'è la fai vedere tutto il costrettore. Allora, io come padrone del concorso La Bellissima e Bellissimi d'Italia, prima di procedere qualche ringraziamento, soprattutto ad Antonella, perché stanchissima da sola ha organizzato tutto questo, che sei una canta. Un applauso direttamente alla presentatrice, ci iniziamo. E la prima classificata, mettetemi un po' di musica, perché veramente stiamo vengendo alla semifinale, semifinale nazionale a Fiumicino, la bellissima d'Italia. La prima classificata è la numero 28, la numero 28, Scovia Sinocelli! Ovviamente facci una sfilata, una sfilata Sofia, vai Sofia! Un applauso grandissimo! Brava Sofia, solamente 17 anni, quindi ti auguriamo il meglio, come lo auguriamo a tutte le ragazze. Queste sono tutte le nostre vincitrici, le vincitrici di questa serata. Grazie a tutti! Grazie a tutti!